...nell'ovest della Germania, dove sembra che avessero appena festeggiato il diciottesimo compleanno di Tommaso Venturi, una delle sei vittime. Un altro di loro avrebbe compiuto 18 anni tra dieci giorni. Tra gli uccisi Francesco e Mario Pergola... Ogni volta che rivedo queste immagini mi vengono i brividi. Un regolamento di conti tra clandi in Dranget nel cuore della Germania. Una scena da far west in una tranquilla città tedesca. Ma perché? Cosa c'è tra l'Andrangheta con la Germania? Mi chiamo Giovanni Tizian e faccio il giornalista. La mia famiglia è originaria della provincia di Reggio Calabria. Nel 1989 l'Andrangheta ha ucciso mio padre, Giuseppe. Qualche anno dopo, decidemmo di trasferirci a Modena, dove ho frequentato le scuole. Con me portai questo pallone, che mi aveva regalato mio padre, e che porto ancora oggi dovunque mi trasferisco. Modena mi appariva un posto diverso, tranquillo, lontano dai conflitti che avevano condizionato così tanto la mia infanzia. Almeno così pensavo. Mi bostò poco, infatti, per scoprire che anche lì, in Emilia Romagna, era arrivata la mano della mafia. Già negli anni 90 c'erano i Casalesi, che dalla provincia di Caserta avevano investito nel settore immobiliare, al pari dell'Andrangheta, che da tempo aveva allargato i propri affari nel cuore della tranquilla pianura padana. Così ho cominciato a studiare l'Andrangheta, a conoscerla attraverso scritti, articoli, atti, testimonianze. E tutto quello che imparavo dai libri si intrecciava ai miei ricordi personali. È così che ho cominciato a fare il giornalista. Oggi non basta più essere i cronisti di provincia che vanno sui luoghi degli omicidi. Bisogna ragionare in modo diverso. Seguire le tracce degli affari, il sentiero dei soldi, come diceva Falcone. Prendere in mano mappe, cartine, andare su internet. Alla stessa maniera in cui ieri si faceva ruotare un mappamondo. Fuori frate, ma mori no put, ma fuori frate. Fuori frate, mori no put. Bisogna prestare molta attenzione ai particolari. Dei funerali di Indrangheta si capisce sempre tanto di quello che succede. E pochi giorni dopo il delitto, a San Luca, si svolgono i funerali delle vittime della strage di Duisburg. È il 23 agosto 2007, quando i sei uomini trucidati in Germania tornano a casa, in Calabria. La sensazione di lutto avvolge il paese. È la stessa di sempre, oggi come allora. In Calabria, ma anche in tutti quei luoghi che vedono i propri giovani cadere sotto i colpi della criminalità organizzata. L'indrangheta è simile alla mafia e alla camorra, ma ha una diversità fondamentale. Si basa, come struttura organizzata, sulla famiglia naturale del capobastone. Che cosa significa questo fatto? Molti dei parenti sono a loro volta indranghetisti, ritualmente affiliati all'indrangheta. Questo che cosa ha consentito? Ha consentito all'indrangheta di allargare le famiglie mafiose con i matrimoni incrociati, facendo sposare le proprie figlie con altri indranghetisti, oppure con famiglie normali, quindi cooptando con la famiglia, dentro la famiglia di indrangheta. E ha permesso all'indrangheta di spostarsi in tutte le regioni del nord e a livello internazionale, spostando pezzi di famiglie, rimanendo in Calabria, dove continua ad esserci il punto di comando dell'indrangheta. È questo tipo di struttura familistica che rende impenetrabili i clan calabresi. Le famiglie di indrangheta si chiamano ndrina e messe insieme formano le locali, cellule criminali sparse sul territorio. Se noi avessimo dietro le mie spalle una mappa ideale dell'Italia e del mondo, noi potremmo vedere come gli stessi cognomi sono presenti in Calabria, nel Lazio, in Piemonte, in Liguria, in Lombardia, in pezzi di Europa e in pezzi di altri paesi stranieri. Questo ha fatto la forza dell'indrangheta, perché ha consentito all'indrangheta di avere pochi collaboratori di giustizia. Già a metà degli anni Cinquanta, le mafie avevano barcato i confini delle proprie regioni. Cosa Nostra faceva affari con i camorristi nel contrabbando di sigarette, quando Napoli era anche la culla di molti latitanti. E negli anni Settanta, i boss siciliani mettevano le mani sul nord Italia, nel campo della droga e delle edilizie. Non a caso a Milano, si nascose per anni un boss come Luciano Liggio, che lì fu catturato nel 1974. Le ricchezze accumulate dall'indrangheta, come in generale tutte quante le organizzazioni mafiose, sono capitali nero. Hanno bisogno di trasformare quel denaro sporco in denaro pulito. Questo è il vantaggio del riciclaggio e questa è la grande questione che ha sempre avuto un'organizzazione mafiosa. Quindi si spostano gli investimenti, si spostano a Roma, nel Lazio, nel centro nord e vanno all'estero. A svelare gli intrecci più recenti, sono state decine di operazioni di polizia e inchieste giudiziari. In particolare le inchieste crimini Infinito, Maglio e Minotau, che hanno portato a sequesti dai milioni di euro e raffiche di arresti, anche nelle amministrazioni comunali del nord Italia. È bastata una micro spia in una retrobottega di una lavanderia di Siderno, di proprietà dei Commiso. E in questa retrobottega sono avvenute le conversazioni, dalle quali è emerso uno spaccato dell'indrangheta sui profili oltre i confini nazionali. Quindi le ramificazioni dell'indrangheta in Canada, in Australia, in Germania, in Europa, ma ovviamente anche nel nord Italia, quindi parliamo di Piemonte, Liguria, Lombardia in modo particolare. Operazioni come queste avvengono ormai a ritmo continuo, svelando la ragnatela in cui si muovono i clan del sud Italia, quelli calabresi in particolare. È veramente straordinario vedere il pellegrinaggio di esponenti di indrangheta che andavano a ossequiare il capo Commiso e, nelle intercettazioni, sentire le disposizioni, sentire addirittura che il capo di Siderno comandava, dava disposizioni a esponenti dell'indrangheta del Canada e quindi pretendere dagli affiliati di Toronto soldi. Dall'operazione crimine si è arrivati a un processo che ha mandato in carcere 23 persone, tra cui il capo clan Antonio Commiso, condannato a 15 anni di reclusione. Quindi in maniera certa, giudiziaria, oggi si può dire che l'indrangheta ha un profilo verticistico e ha le ramificazioni in Europa e all'estero. Si muoverebbe, si muoverebbe, quello che c'era qui l'abbiamo morto. Quella dell'indrangheta, oltre i nostri confini, è oggi una colonizzazione in piena regola che nasce già nel dopoguerra. Sono gli anni in cui i calabresi lasciano la propria terra per cercare fortuna in Germania, Inghilterra, Svizzera. Molti addirittura vanno negli Stati Uniti o perfino in Australia. L'immigrazione è stato un dramma per il mezzogiorno perché ha significato spopolare le campagne meridionali, ha significato togliere dal mezzogiorno le forze migliori, le forze più giovani, quelle più dinamiche. L'indrangheta segue le rotte dell'immigrazione calabrese nel mondo. Non a caso noi la troviamo in Germania, la troviamo in Australia, in Canada, negli Stati Uniti. Poi seguendo le rotte della droga la ritroviamo invece in Colombia, in Bolivia, in Peru. È evidente che negli ultimi 15-20 anni non c'è più l'immigrazione di un tempo. E oggi l'indrangheta è presente all'estero per una scelta strategica che fa l'indrangheta e contemporaneamente per il fatto che lì hanno capito che possono fare affari. Io penso che negli ultimi anni c'è stato un salto di qualità, parallelo alla crisi di Cosa Nostra sul piano internazionale. Lago della Bilancia sono sempre le stragi del 1992, la sfida di Cosa Nostra allo Stato che reagisce aggredendo la mafia siciliana con una raffica di arresti e con l'inasprimento del carcere duro, tramutando in legge le intuizioni di Giovanni Falcone. Falcone aveva già capito le ramificazioni all'estero delle organizzazioni criminali italiane. Già negli anni 90 aveva compiuto viaggio in Germania alla ricerca di connessioni e rapporti d'affari riguardanti soprattutto il reinvestimento dei capitali mafiosi. Tutte queste organizzazioni per raggiungere i loro scopi godono di larghe disponibilità finanziarie fatte essenziali per il traffico della droga, fanno un ricorso alla violenza e tentano in tutti i modi di garantirsi l'inazione della polizia e della magistratura oltre che la connivenza del potere politico. E' del 1991 il primo rapporto della polizia tedesca sulle infiltrazioni mafiosi italiane in Germania, che fu reso pubblico però solo dopo le stragi. Non dimentichiamo che la mafia e le organizzazioni criminali si presentano in quegli anni con un grande contenitore di ricchezza che derivava sostanzialmente dallo sviluppo delle attività connesse al traffico internazionale di stupefacenti e dunque erano in qualche modo alla ricerca di nuovi canali, nuovi mercati per il riciclaggio. Anche Borsellino indagava su una pista tedesca per la strage di Capaci e pochi giorni prima di morire interrogò un mafioso proprio in Germania, sospettato di essere uno dei killer del giudice Rosario Livatino, ucciso da Grigento nel 1990. Rosario Livatino è stato ucciso in Sicilia, però i killer sono stati mandati dalla Germania. C'era un grande stupore, ma come è possibile, eccetera, eccetera, però dopo è calato tutto perché neanche la politica tedesca non aveva interesse di pronunciarsi su questo tema. Ci sono anche alcune ipotesi investigative secondo le quali l'esplosivo usato per uccidere Borsellino era stato acquistato da Cosa Nostra in Germania tramite l'Andrangheta Calabrese e Borsellino sarebbe venuto a saperlo proprio durante quel viaggio. Sono gli anni in cui cambia la geografia politica con il crollo del muro di Berlino, che fa cadere anche le frontiere criminali. La caduta del muro di Berlino significa l'apertura di frontiere di stati che avevano grandi giacimenti di risorse naturali, materie prime, diamanti, oro, beni mobili e immobili che in definitiva costituivano degli asset estremamente appetibili per la mafia. Da alcune indagini è emerso che i clan della Camorra e dell'Andrangheta furono i primi a lanciarsi in investimenti immobiliari nell'ex Germania Est, fiutando subito gli enormi affari che avrebbero potuto fare. La caduta del muro di Berlino è stata sicuramente l'esplosione di gruppi piccoli organizzati che hanno trovato un po' in Europa mercati dove potevano entrare. La Jugoslavia è letteralmente scoppiata e questo ha prodotto la parcializzazione di gruppi criminali che si sono alimentati prima con contrabbando di benzina, poi la rotta balcanica dell'eroina passava lì e quindi droga e via via man mano acquisendo capitali e investendoli sui mercati criminali. Quel nuovo sistema criminale aveva bisogno anche per affermare questi traffici di un rapporto con organizzazioni strutturate e in questo i traffici d'armi dal porto di Gioia Taur e l'intervento dell'Andrangheta oppure anche di settori della Camorra è un dato certo. Il filo rosso che porta a Duisburg parte quindi da molto lontano. Nel primo momento è stato uno shock per i tedeschi di scoprire la mafia a casa loro e dopo si sono rassicurati che alla fine si trattava solo di un omicidio tra italiani, che la mafia esiste sempre in Italia però non riguarda i tedeschi. Ritrovarsi nel cuore della Germania la notte di ferragosto con sei cadaveri a terra, hanno sicuramente preso una consapevolezza della forza dell'Andrangheta e possibilmente del fatto che non portavano solo soldi ma anche sangue e morte. Già nei mesi scorsi si era diffusa l'allarme per l'aumentata attività dell'Andrangheta in Germania dove investe ingenti capitali in attività economiche, società immobiliari, alberghi, ristoranti, soprattutto nell'est del paese. Le indagini sulla strage di Duisburg rivelano anche ai tedeschi la presenza criminale in Germania. È la prima volta che le mafie italiane svelano in modo così netto e feroce il loro volto fuori dai confini nazionali. L'Europa e il mondo scoprono l'Andrangheta con la strage di Duisburg, un'espressione di una faida antica che partiva da San Luca in Calabria e che ha un punto molto importante a Duisburg. Ci sono due interpretazioni. Una che dice che è stato l'errore dell'Andrangheta perché dopo Duisburg lo Stato non poteva far finta di niente e sono attivati per fare una grande iniziativa di contrasto. Io sono di un'opinione diversa. Io sono convinto invece che l'Andrangheta lì ha fatto una prova di forza nel confronto dell'Europa e nel confronto del mondo per dire guardate che noi siamo in grado di colpire dovunque e abbiamo questa capacità di fuoco che esprimiamo non solo in Calabria dove la comandiamo noi, ma anche altrove. Secondo le indagini l'obiettivo dell'agguato era Marco Marmo, accusato di aver custodito le armi usate per l'omicidio di Maria Strangio, moglie del capo Cosca Giovanni Nirta, uccisa la notte di Natale del 2006. I Nirta e Strangio volevano così vendicarsi dei pellevottari. Nell'Andrangheta bisogna saper leggere i simboli, i segnali. Ecco, Natale è una festa, per inirta a Strangio con quella morte sarebbe rimasto nella storia un giorno di dolore e di lutto. Ferragosto è una festa importante in Calabria, con quella strage per l'altra cosca avversa sarebbe rimasto un giorno di dolore e di lutto. Già dieci giorni dopo la strage, il 30 agosto 2007, una maxioperazione di polizia e carabinieri coinvolge quasi 500 persone e porta in carcere 30 esponenti delle cosche calabresi. Vengono colpiti i principali esponenti delle famiglie contrapposte nella faida di San Luca, non per la strage, ma vengono fermati per il 416 bis e per altri reati, quindi viene, come dire, ristabilito un minimo di controllo del territorio nel paese di San Luca. È come se tra i due luoghi non ci fosse distanza. La strage è venuta in Germania, ma è stata pianificata lontano, in Calabria. Il ristorante da Bruno, di fronte al quale furono uccisi sei ragazzini, uno dei quali proprio quella sera compiva 18 anni, quindi diventava maggiorenne per lo Stato civile, per l'anagrafe, ma anche per l'andrangheta, perché proprio quella sera era stato affiliato nel ristorante da Bruno. Beh, nel dietro al ristorante c'era la sala attrezzata con il tavolo a 13 posti per la riunione del crimine. Dietro quel tavolo c'erano le immagini della Madonna della Montagna e la stuata di San Michele Arcangelo, che è il santo protettore dell'andrangheta. Perché a migliaia di chilometri di distanza dall'aspromonte c'è bisogno di riprodurre anche quel dito, quella simbologia? Perché questo produce appartenenza. La logica antica avrebbe voluto che queste morti ne seguissero tanti altri. Queste morti, per fortuna, non hanno avuto un seguito. Perché? Perché nel giro di due o tre giorni, con il sangue dei morti ancora caldo, a San Luca hanno fatto l'accordo, hanno fatto la pace. Perché? Perché erano in discussione i soldi, gli affari e gli affari oggi contano più dai morti. Dopo la strage, in Calabria arriva la stampa tedesca, per capire e conoscere meglio il fenomeno mafioso italiano. Ma a colpirli è soprattutto altro. A nome dei nostri tre vecchi antenati cavaliere di Spagna, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, colgo e raccolgo tutte queste parole sparse al vento e li seppellisco in un pozzo profondo sotto il livello del mare. Giuriamo, saggi compagni, che non verranno mai scoperte né oggi né domani e nemmeno nell'ora del giudizio universale. E se qualcuno le scoprirà, la pagherà da tre a cinque colpi di pugnale, come è prescritto per regola sociale. Lo giuro! La drangheta in particolare è riuscita, cioè diciamo tra le organizzazioni mafiose in Italia e in Germania, è quella più diffusa, dunque la più potente. Ed è anche la più invisibile, nel senso che loro sono riusciti alla grande anche in tutti questi anni a costruire di se stessi un'immagine molto folcloristico. Per esempio c'è stato il fenomeno della musica della mafia in Germania, un fotografo calabrese che ha avuto l'idea di diffondere la musica della drangheta e poi su questa musica non c'è neanche una possibilità di fraintendimento perché ci sono anche testi sia in italiano che in tedesco che descrivono per esempio come viene festeggiata l'incisione dalla chiesa oppure di incoraggiare qualcuno a ammazzare un pentito, dunque non era un dubbio. Sono i mafiosi stessi che dicono ai tedeschi non preoccupatevi perché la mafia esiste solo in Calabria, in qualche villaggio remoto dove i boss cantano e ballano nel loro naspettamento con l'indievo. Difficilmente uno straniero vuole ammettere che sul proprio territorio c'è un'organizzazione mafiosa come l'Andranche, ma fanno fatica a dirlo. Così come d'altra parte abbiamo fatto noi in Calabria e Sicilia nel mezzogiorno quando dicevamo la mafia non esiste, l'abbiamo detto per decenni. In tutta Europa l'Andrangheta ha messo radici riproducendo il modello familistico dei clan calabresi. Mi fa pensare ai centri alle pendici del Vesuvio. Dopo il terremoto del 1980 la protezione civile ha stabilito un piano di evacuazione per i paesi della Campania, ognuno dei quali è gemellato con una regione italiana nella quale si trasferirebbe la popolazione sfollata in caso di sisma. È come se l'Andrangheta avesse fatto così. In Germania ad esempio il Reno segna il confine tra le aree di influenza delle famiglie, così come si fa con le fiumarelle a Calabria. In questo modo si sono espansi in Europa le locali, le articolazioni dell'Andrangheta, così che piccoli centri dell'Olando, interi quartieri di cittadini tedesche, sono diventati veri e propri avamposti dell'organizzazione. È successo anche a Duisburg, che è diventata come San Luc, come Africa o Platì, o come Bovalino, il mio paese. L'Andrangheta si è proposta al mondo come una mafia seria, affidabile, ricca di soldi, perché? Perché accumulati sia col traffico della droga, ma prima con gli appalti, la costruzione del porto di Giulia Tauro, la costruzione della Salerno Reggio Calabria e ancora prima la stagione dei sequestri di persona. Queste attività hanno portato all'Andrangheta grande liquidità, immessa nel grande traffico della droga, soprattutto della cocaina. Non è da escludere che dove si formino capitali illeciti o capitali fuori bilancio, ad esempio delle banche o in altre regioni in cui si vengono a formare capitali senza controllo, questi capitali vengono investiti nel traffico di droga. Negli anni Ottanta il traffico di stupefacenti era in mano ai marsigliesi, i pionieri della droga nel Mediterraneo. Col tempo le organizzazioni italiane hanno messo le mani sulle grandi partite provenienti dal Sud America e dall'Asia, al punto che nella storica operazione antimafia Pizza Connection tra gli indagati c'era il cinese Koba Kim, uno dei trafficanti più potenti del mondo. Un altro importante momento di questo sviluppo internazionale è quello del 1987 con la nascita di questo accordo con i cartelli colombiani di cui hanno parlato collaboratori di giustizia e per i quali vi sono stati anche degli importanti processi in Italia e in America. Ad Aruba i cartelli di Medellin stipularono accordi con rappresentanti mafiosi per inserirsi nel settore, nel mercato dell'eroina dal canto loro e la mafia per acquisire invece un ruolo importante nel mercato della cocaina. Sono gli anni in cui il chimico della mafia, Francesco Marino Mannoia, lavora l'eroina nelle centrali di raffinazione sparse per la Sicilia. Cosa Nostra si arricchisce controllando i porti del Mediterraneo e la droga invade il Nord Italia. Subito dopo le stragi, anzi a cavallo delle stragi, cambia il mercato della droga. Dall'eroina si passa alla cocaina e l'andrangheta intercetta questo mercato. Perché? Perché Cosa Nostra con le stragi è entrata nel merino dello Stato e perché Cosa Nostra è stata devastata dai collaboratori di giustizia. Cosa Nostra perde il treno della cocaina e lo guadagna l'andrangheta. Questo consente all'andrangheta una grandissima capacità di rapporto e di relazioni con grandi organizzazioni di narcotrafficanti a livello internazionale che la portano oggi ad essere la più grande organizzazione di narcotrafficanti in Europa. L'andrangheta è una delle poche organizzazioni criminali che può acquistare cocaina senza dare anticipi di soldi e in alcuni casi senza neanche lasciare un ostaggio a garanzia. Se le grosse organizzazioni criminali colombiane cercano una controparte affidabile che non mette a repentaglio la vita stessa delle organizzazioni, con l'andrangheta si possono fidare. Il viaggio della droga comincia sempre in Sud America. I narcos colombiani o messicani la portano in Italia lungo i canali prestabiliti. Le porte d'accesso sono quasi sempre il porto di Rotterdam o di Anversa. Da lì, in modo capillare, la droga invade il continente, ma molta arriva anche al porto di Gioia Tauro. Da qui i clan calabresi la immettono nel mercato, la vendono ai grossisti, anche ai campani. Insomma, la coca invade le piazze italiane, da Roma fino a Milano. Parliamo di una droga che non ha pari come capacità di moltiplicazione della ricchezza. Un chilo di coca in Colombia, per fare l'esempio del paese più noto, come produttore vale più o meno tra 1000 e 1500 Euro. Quel chilo di coca che viene tagliato produce 4 kg di cocaina, un chilo di cocaina vale al mercato 50.000 Euro. Marx, che ha elaborato la teoria del plus valore, potrebbe scrivere che non esiste una merce in grado di produrre un plus valore da 1500 Euro a 200.000 Euro. Per trasportare la droga bisogna controllare i porti, ma non solo. Quella dei trasporti è una ragnatela fittissima, che comprende navi, camion, treni. Ci sono famiglie in Drangheta, che vantano intere flotte di tir, che viaggiano in lungo e largo per la penisola e l'Europa. Da quando si sono aperte le frontiere, a seguito del Trattato di Schengen, far viaggiare qualsiasi tipo di merce è diventato più facile, e se le dogane arricciano la fronte, ci pensa il denaro ad ammorbidire i controlli. Carichi interi di droga, materiale contraffatto, generi alimentari, rifiuti, invadono le strade e permettono alle organizzazioni criminali di portare avanti i loro affari. I porti sono la zona di maggiore vulnerabilità, anche il porto di Napoli lo è stato e lo è ancora per la merce contraffatta che veniva dalla Cina. Nel sistema delle nostre dogane e delle dogane internazionali, gli scanner individuano dei container e fanno random lì, cioè casualmente, e quindi per uno che ne trovano 10 che passano. Le infrastrutture dei trasporti che c'è l'Olanda sono tra le più efficienti in Europa, il porto di Rotterdam è il porto più grosso d'Europa. Anche la posizione geografica dell'Olanda, in 10 ore di macchina si arriva in Italia, ma si arriva anche in Svezia, e si arriva anche in Spagna, e si arriva anche nell'est europeo. Abbiamo l'aeroporto di Schiphol che è il terzo in Europa, chiaramente l'Olanda rischia di essere un nodo logistico per questi criminali. La vera sfida è capire se la presenza di questi criminali in Olanda sia una presenza estemporanea o se effettivamente in Olanda siamo davanti a una presenza stabile. Poi c'ha anche il settore degli autotreni che percorrono le strade che portano in Europa, l'Europa occidentale che poi è il mercato che c'ha la maggiore domanda e sicuramente questi sono i luoghi di ingresso e i luoghi di diffusione, questo per l'importazione. Poi ci sono i mercati locali, delle diverse città e capitali e allora questi sono gli anelli del commercio della droga a dettaglio in questo caso. Ma non c'è solo la droga. Gli affari si allargano al settore immobiliare, un business in cui sono da sempre molto attivi i clan della Camorra, soprattutto in Spagna e in Inghilterra. Le organizzazioni criminali italiane hanno cambiato pelle ed ora manager e colletti bianchi girano l'Europa con l'abito delle grandi occasioni. I dati sulle presenze delle organizzazioni criminali in Europa sono abbastanza incerti. Ci sono alcune preferenze fondamentali. Le mafie pugliesi stanno sulla parte occidentale, l'Inghilterra c'è sempre dentro, la Camorra si allarga da quella parte anche sui paesi dell'est, l'Andrangheta anche qui va sull'Europa occidentale ai paesi dell'est e cosa nostra è preferibilmente sulla parte dell'Europa occidentale, l'Europa mediterranea, Francia e Spagna. Si tratta di organizzazioni drive and profit, cioè guidate dal profitto, ispirate dall'esigenza dell'accumulazione della ricchezza e del riciclaggio internazionale. Questo significa che ogni settore che di volta in volta ha rappresentato l'occasione storicamente utile per infiltrazioni e per l'acquisizione e l'occupazione di ricchezza ha rappresentato l'obiettivo delle organizzazioni criminali endogene e dell'Andrangheta in particolare. Per cui nel settore della usura, che oggi riacquista nuova attualità, le organizzazioni criminali si offrono per il procacciamento di provvista di denaro, sostituendosi in parte al circuito bancario. Il reinvestimento dei capitali è l'obiettivo principale di ogni attività criminale. L'Europa sta diventando una lavatrice di soldi sporchi che i clan hanno guadagnato con attività illegali. E non sempre è facile tracciarne la provenienza. Abbiamo con molta sorpresa anche scoperto che i mafiosi investono in immobili non dove gli immobili sono efficienti o nelle aree ad alto interesse o storico o commerciali, ma investono in quelle aree vicine a loro, cioè nel territorio. Ancora di più il controllo del territorio funziona come collante fondamentale per questo investimento. Cioè io preferisco investire in un'area che controllo, dove faccio magari contratti di affitto in nero perché nessuno protesta, anziché in un'area che può essere Curmaiero oppure Taormino e altri dove c'è una forte valutazione, ma lì non la controllo. Quando questi investitori investono all'estero, investono in maniera tra virgolette regolare, quindi non dovendo produrre col fine ultimo di guadagnare, ma semplicemente col fine ultimo di ripulire i fondi ottenuti legalmente, chiaramente un gruppo mafioso che ha la possibilità di investire degli ingenti capitali non ha bisogno di perpetrare alcun reato all'estero. Sembra uno di quei giochi di società che facevo da bambino. Le mafie italiane viaggiano lungo l'Europa e piantano le loro bandierine con imprese assolutamente legali, mantenendo un equilibrio perfetto tra modernità e tradizione. L'Andrangheta sa coniugare il tipo di organizzazione, che è un tipo tradizionale di organizzazione con un'affiliazione ben precisa, con però la capacità di investire nei settori più redditizi, grazie a commercialisti, avvocati, notai, cioè a tutte quelle figure intermedie che non sono veri e propri membri dell'Andrangheta da un lato, però dall'altro possono far crescere economicamente questa organizzazione. Una zona grigia che sfrutta agilmente le differenze tra legislazioni nazionali in tema di riciclaggio del denaro. Il riciclaggio è un grande problema per la Germania, però non viene considerato come tale. Si presume, si parla di 50 miliardi di oro che vengono riciclate dalla mafia in Germania, perché c'è il cosiddetto onore della prova da parte della polizia, nel senso in Germania, quello che investe non deve provare lui che i soldi provengono da fonti pulite, ma il poliziotto deve provare che questi provengono da fonti sporche. E quando le leggi ostacolano gli affari dei clan, si ricorre alla corruzione, per oliare le maglie della burocrazia, sfruttando i rapporti con le amministrazioni locali e il controllo del territorio. Sicuramente la corruzione è la porta d'ingresso delle mafie dentro le amministrazioni locali e la collusione per poter ricevere da tutte e due le parti benefici, da una parte corruzione e dall'altra parte apalti e lavori pubblici, che sono poi le attività prevalenti delle mafie. Ci sono tutta una serie di attività, di servizi criminali, che l'Andrangh ad riesce ad assicurare, senza sparare un colpo, senza uccidere nessuno. Dobbiamo far capire oggi che la pericolosità sociale delle mafie sta tutta nell'inquinamento dell'economia e attraverso l'inquinamento dell'economia, nella conseguente inquinamento della società. Il primo passo per inquinare la società è quello di mantenere il controllo del territorio. Per le organizzazioni criminali è il punto di partenza di ogni affare. L'Italia è famosa per il cibo e le mafie cavalcano questa fama e ne approfittano. Pizzerie, ristoranti, attività con prodotti made in Italy. I ristoranti diventano luoghi dove impiegare mano d'opera nostrana a basso costo. Lavapiatti, cuochi, camerieri, ma sono anche centrali logistiche per ritrovi, riunioni, depositi di armi e droga. Quartier generali di famiglie camorristiche in Spagna, come in Olanda o Germania. Non solo. Se un tempo l'interesse delle cosche era aprire un'attività per riciclare, oggi avvia un'attività per riciclare ma anche per guadagnare, alimentando la filiera produttiva con propri prodotti, quelli per i quali l'Italia è famosa nel mondo. L'Andrangheta è riuscito a creare locali alla moda, ben frequentati, a ristoranti e pizzerie sparse in tutta Europa e spesso ha creato propri brand. Alcuni clan calabresi sono i pionieri della ristomafia S.P.A. Tutti investono in settori di costruzione, tutti investono nel settore alberghiero, nelle famose pizzerie, facendo anche della buona pizza, tra l'altro. La ristorazione è importantissima, il ristorante da Bruno, dove c'è stata la strage, non era una pizzeria per i migrati, era uno dei ristoranti più esclusivi, dove andavano le élite di quella città, i magistrati, i ministri, i politici, l'alta borghesia. Ecco, gestire un ristorante di quel tipo serve anche a tessere rapporti e relazioni. La gran parte dei ristoranti dell'Andrangheta stanno a fianco o vicini ai palazzi del potere. Avviene lo stesso con la Camorra, che controlla attività imprenditoriali legate agli alberghi e alla ristorazione in gran parte della Spagna, dove è stato arrestato nel 2012 il capo clan Giuseppe Polverino, che possedeva un tesoro da un miliardo di euro. Poi c'è un fatto importante, se lei investe nel settore della ristorazione, c'ha anche una catena alimentare, compra le mozzarella in un posto, può approvvigionarsi del pomodoro in un altro, sempre a costi più bassi della sua concorrenza. E non solo, ma anche in questo caso, assumendo mano d'opera scarsamente qualificata, che magari ha anche necessità di andare via dall'Italia per rischi di, come chiamiamo noi, di polizia. E quindi va lì e trova occupazione e anche protezione. I clan calabresi e campani hanno deciso negli ultimi anni di diversificare gli investimenti. Drangheta e Camorra sembrano aver capito prima dei governi e dei grandi gruppi industriali il potenziale affare delle energie rinnovabili. Tutta la gestione dei fondi europei è stata un canale finanziario attenzionato dalle mafie. Nella prima relazione sull'Andrangheta della Commissione Parlamentare Antimafia ci fu un capitolo ampio dedicato proprio ai finanziamenti europei. Perché? Perché negli ultimi anni, finiti gli interventi straordinari per il mezzogiorno, l'unico canale di finanziamento arrivato in Italia nel sud e in una regione come la Calabria sono stati quelli europei. Ma questa sperimentazione del controllo dei finanziamenti europei in Calabria ha posto l'attenzione anche sulla gestione dei finanziamenti europei nei paesi dell'estero. Energie rinnovabili, ma non solo energie rinnovabili. Tutta la voce che noi definiamo eco-mafie. Le energie alternative finanziate dall'Unione Europea riguardano gli investimenti che si fanno in Romania così come riguardano gli investimenti che si fanno in Calabria. Perché tutto l'eolico calabrese finanziato dall'Unione Europea è fortemente condizionato dall'Andrangheta. Questi nuovi settori sono visti come l'esigenza di ripulire il denaro, ma a volte anche per alcune esponenti, per alcune famiglie, il tentativo di ripulirsi in senso ancora più lato, quindi entrare nelle attività, tra virgolette, legali. E questo è il momento più pericoloso e più in cui bisogna intervenire con tempestività perché altrimenti se passano degli anni è ancora più difficile rintracciare il denaro sporco quando ha già avuto più livelli, come dire, di pulizia e di riciclaggio. Senza dimenticare i rifiuti, le grandi crisi degli ultimi tempi, in Campania per esempio, sono state risolte con accordi che hanno portato l'immondizie fuori dall'Italia, rischiando le infiltrazioni mafiose con i clan che controllano i siti di stoccaggio, come quelli presenti in Romania. Nell'est Europa l'Andrangheta ricicla capitali sporchi che sono alla base di industrie e società immobiliari molto attive nell'economia rumena. Il copione si ripete nei paesi limitrofi, Bulgaria e Ungheria. Se ci riferiamo ad altri traffici lecidi, ad esempio al traffico di esseri umani o al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, vediamo che vi è una netta prevalenza di criminalità ad etnia straniera con sinergie, sì, di soggetti italiani, ma non legati alle organizzazioni tradizionali, mafiose o dranghetiste, dove in questo caso il rapporto è un rapporto di sfruttamento, nel senso che l'organizzazione straniera paga una somma di denaro per ottenere lo sfruttamento sul proprio territorio delle persone trafficate. È così che si incontrano i clan di Mezz'Europa. Ogni organizzazione cura gli affari nel proprio settore, stando attenti a non pestarsi i piedi. Non siamo soli in Europa, siamo in ottima compagnia, nel senso che i classici russi e cinesi, e questi sono oramai in tutti quanti i continenti, e quelle che noi chiamiamo le motorcycle gangs, che sono piccole organizzazioni criminali, ma estremamente efficaci in Inghilterra e nella parte dell'Europa centrale. Sono un fenomeno che in Italia è poco conosciuto, ma che nel centro e nel nord Europa è molto conosciuto. Gruppi criminali, quali gli Hells Angels, i bandidos, che sono coinvolti nel traffico di armi, nel traffico di droga. Quella tra le mafie internazionali è una convivenza criminale che ci fornisce una mappa di attività illegali che si estende a macchia d'olio in tutta Europa. E la crisi ha riattivato vecchi mercati, come quello delle sigarette. È un rapporto di convivenza, nel senso che le attività sono diverse. La mafia russa non potrà gestire la ristorazione italiana, come le mafie italiane, sicuramente Cosa Nostra e l'Andrangheta, non gestiscono i grandi circuiti della tratta delle donne finalizzate al mercato del sesso. Vediamo che questi grandi gruppi criminali, gruppi criminali albanesi, gruppi criminali italiani, bulgari, entrano in collaborazione, si vendono le sostanze uffefacenti, si vendono le armi, a volte barattano carichi di armi con carichi di droga. Sanno benissimo che nel momento in cui si generassero guerre da strada si attirerebbe l'attenzione negativa delle forze dell'ordine, della magistratura, anche in quei paesi dove l'attenzione non è così alta per il fenomeno mafioso. E quindi cercano sempre di tenere un basso profilo. È una continua partita a scacchi, quella tra le mafie e gli investigatori, che molto spesso devono fare i conti con strumenti di indagini, diversi e legislazioni differenti. Vi era una rogatoria internazionale della direzione distrittuale di Napoli finalizzata ad ottenere un'attività di intercessione ambientale all'interno di un ristorante in Germania, in una città tedesca, nella quale si incontravano esponenti criminali per sostenere la titanza di un noto pregiudicato. Io ricordo che ebbe ad incontrarmi con il mio omologo, collega del desk tedesco, e mi chiedeva sostanzialmente quale fosse l'attività criminale commessa da questo soggetto perseguito in Italia per il reato di associazione di tipo camorristico, per il reato di cui è l'articolo 416 bis. Alla fine del ragionamento, ancora perplesso, mi chiedeva, sì, ma quali reati sono stati commessi da questa persona? Bisogna rendere penale il reato di partecipazione ad un'associazione, non la commissione di un reato, rubare, no, ma aderire ad un'organizzazione criminale è un reato. E questo, diciamo, nelle culture giuridiche degli altri paesi europei è un tema difficile da attuare, così come è stato difficile per noi far comprendere la centralità dell'uso delle intercettazioni in Germania. In un paese che è stato intercettato per 20 anni dai nazisti e per 40 dai comunisti, ovviamente il tema della libertà individuale, del rispetto alla libertà individuale, ha un'altra percezione rispetto a un paese come l'Italia che ha vissuto sulla propria pelle le stragi, gli omicidi politici, il sangue nelle strade, le guerre di mafia. L'estero non solo non riconosce il reato di mafiosità, ma è anche difficile effettuare dei sequestri e delle confische all'estero. È molto più facile arrestare una persona all'estero che sequestrare dei capitali all'estero. Quando le organizzazioni battezzano un posto come loro rifugio, vuol dire che lì hanno una base logistica su cui contare. Il latitante siciliano per eccellenza resta a casa, non si muove, perché se mi allontano dalla Sicilia, si dice da quelle parti, perdo fama, gloria e potere. In Calabria, nelle nuove generazioni, si assiste a una presenza dei latitanti nei paesi europei, anche all'estero e anche altro oceano, perché hanno una funzione centrale, strategica, nell'organizzazione, nei compiti dell'organizzazione, che è soprattutto il traffico della droga. Il filo rosso di Duisburg ha portato gli investigatori in Olanda, dove sono stati arrestati Francesco Nirtak, catturato a Utrecht nel 2013, e Giovanni Strangio, ricercato numero uno per la strage. Fermato nel 2009 ad Amsterdam e condannato in primo grado nel 2011 all'ergastolo come mandante ed esecutore dell'eccidio. La funzione di Strangio e di Virta non è solo quello di rintanarsi in Olanda perché sono latitanti, ma perché là serve all'organizzazione un terminale nel traffico internazionale di cocaina e quindi in quel momento hanno una funzione strategica di assolvimento di compiti importanti per l'organizzazione. Dal punto di vista giuridico, Duisburg è un capitolo chiuso. I latitanti sono stati arrestati e condannati in primo grado, ma quelle indagini possono essere il punto di partenza per delle attività investigative collegiali a livello europeo. A Germania, dopo Duisburg, ha reagito. Anche la mentalità investigativa si è rafforzata non dalla parte della polizia tedesca, ma anche l'impianto normativo si è modificato. Per la prima volta hanno previsto la possibilità del sequestro dei beni anche in Germania. Oggi esiste una task force permanente tra Italia e Germania. Ci sono poliziotti tedeschi in Italia, poliziotti italiani in Germania, dove c'è uno scambio continuo di dati sulla criminalità organizzata che sta dando i frutti nella collaborazione. Le collaborazioni di oggi sono frutto di un lungo percorso di legislazione comune, partito nel vertice europeo di Tampere nel 1999. Da quell'anno in poi si innesta nell'Unione Europea un nuovo seme che è quello del superamento della dimensione veramente interstatuale del rapporto tra autorità e invece quello della integrazione, del rapporto diretto tra giudici, tra autorità giudiziarie. Ci si rende conto che tutti erano connessi, i mercati, le banche, i criminali e le grandi barriere esistevano soltanto per le autorità giudiziarie. Questo trova una concretizzazione nel 2002 con l'adozione di Eurojust. Di Eurojust fa parte un procuratore o un ufficiale di polizia per ogni Stato membro, riuniti in un collegio. Occorre una risposta che sia capace di organizzare più indagini contestualmente e che sia in grado di ottenere quello scambio informativo in tempo reale tra i protagonisti dell'azione investigativa e giudiziaria. Tutto questo rientra dagli obiettivi di Eurojust che può richiedere alle autorità competenti di avviare un'indagine penale da coordinarsi con quelle esistenti in altri Stati. Il braccio operativo e investigativo di Eurojust è invece Europol. Europol è un'agenzia di intelligence che si occupa di scambiare informazioni di polizia tra i vari paesi membri dell'Unione Europea e con dei paesi, i cosiddetti paesi terzi, con cui noi abbiamo un rapporto di cooperazione operativo, quale ad esempio la Svizzera, ma anche gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada. Se noi immaginiamo la possibilità di ricevere i numeri telefonici delle persone coinvolte nel reato di immigrazione in tutti i paesi d'Europa, processando e mettendo i dati tutti insieme si può chiaramente vedere che ci sono dei punti nodali che legano più indagini. A questo punto Europol, dopo aver analizzato i dati, prepara dei rapporti di analisi che vengono inviati ai paesi dell'Unione Europea e con i quali i paesi possono cominciare delle attività investigative. Chiaramente i paesi membri sono liberi di fare quello che vogliono con i nostri spunti investigativi. Noi non possiamo obbligare i paesi a mandarci le informazioni. Negli ultimi anni il Parlamento Europeo ha lavorato una legislazione comune e il primo passo è stata l'istituzione di una commissione antimafia europea. Io con quella commissione ho messo tutti attorno a un tavolo. Prima non accadeva. Europol, Eurojust, Interpol, UNODC, l'FBI, la DEA, ci sono parlati tutti. Noi abbiamo fatto missioni in Serbia, missioni a Washington. Abbiamo cercato di far capire gli altri che noi siamo tecnici, eravamo tecnici legislatori e il nostro obiettivo era solo quello di mettere nero su bianco gli strumenti di quali loro avevano bisogno. E noi abbiamo anche introdotto l'abolizione del segreto bancario, tracciabilità dei flussi finanziari, incandidabilità, ineleggibilità per tutti quelli di quali hanno riportato condanne con sentenza definitiva e uno strumento importantissimo che è quello dell'esclusione dalle gare di appalto tutte quelle aziende che hanno riportato condanne con sentenza definitiva per reati gravi, corruzione, mafia, riciclaggio di denaro e reati gravi contro la pubblica amministrazione. Il 23 ottobre 2013 la prima commissione antimafia europea ha varato un testo unico col quale ha di fatto ammesso l'esistenza delle organizzazioni mafiosi in Europa nella speranza di cambiare l'approccio investigativo e legislativo verso i fenomeni mafiosi in tutto il continente. Quella relazione conteneva un passaggio di fondamentale importanza. C'era scritto che nel caso in cui quella relazione fosse stata approvata in maggioranza il Parlamento europeo entro tre mesi avrebbe dovuto istituire la prima commissione antimafia sul crimine organizzato, corruzione, cirurgia di denaro. E così fu. È stato Pio La Torre in Italia a promuovere il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Quello che oggi chiamiamo articolo 416 bis. Noi diciamo fine da vado e fila e invece concentrare la nostra attenzione su l'illecito arricchimento perché la mafia ha come fine appunto l'illecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere il riflettore. La Torre non vide compiuto il suo progetto perché venne ucciso a Palermo il 30 aprile 1982. Con il reato di associazione si introduceva nel codice penale italiano anche la disposizione della confisca dei beni. Essere mafioso diventava reato e soprattutto lo Stato toccava finalmente la cosa più importante per i mafiosi i soldi. Ai boss non interessa scontare 10-20 anni in carcere anzi è una stelletta che loro portano al petto diventano ancora più forti però se gli togli i soldi e se gli porti via i beni li colpisce al cuore. La collaborazione di polizia su questa cosa è fondamentale devo intercettare il bene devo avere la possibilità di poterlo sequestrare e di poterlo confiscare. Le tre cose le posso fare in Italia dove c'è un'attività di polizia che riesce e le procure della Repubblica a funzionare e quindi se io fossi un mafioso italiano proverei sicuramente a investire fuori anziché a investire in Italia. Allo Stato non vi è dubbio che vi sono ancora sotto questo profilo grandi gap che occorre col mare di cui la necessità di una armonizzazione normativa sia nell'ambito del diritto penale che sul piano processuale. Ci sono due atteggiamenti quello italiano un po' di esagerare la presenza delle mafie italiane all'estero e quella degli stranieri di sottovalutarla la verità sta nel mezzo delle due cose. Ci sono segnali che questa preoccupazione della espansione delle organizzazioni criminali sul terreno europeo ci sia comunque e che ci sia la necessità di trovare barriere comuni non solo di diritto ma soprattutto di riduzione delle opportunità che permettono di ridurre questo potenziale. Su questo c'è una grande consapevolezza. La cosa certa è che quel che le mafie toccano diventa oro è guai a parlarne perché fanno paura proprio quando non sparano. Sono storie come queste che cerco di raccontare nei miei articoli sull'Espresso e nei miei libri come ho fatto qualche anno fa scrivendo dell'invasione dell'Andrangheta e delle altre mafie nel nord Italia. Ci sono inchieste giornalistiche che danno fastidio e turbano la tranquillità dei boss emigrati lontano dalle terre di origine. Per alcuni miei articoli dal 2011 vivo sotto scorta. La mia vita è cambiata ma non la voglia di indagare e il piacere di scrivere. Da quel giorno le organizzazioni criminali si sono espanse ancora di più ben oltre le nostre frontiere. Oggi la ragnatella delle mafie nel vecchio continente si fa sempre più avvolgente e chiama in causa l'Europa per unirsi contro il crimine organizzato. a